Buonasera e bentornati a TGTG Estate. Questa sera vi porteremo soprattutto all'estero perché il nostro ospite è stato corrispondente da Mosca ma ha anche seguito da vicino le vicende di Afghanistan, Medio Oriente e anche Iraq. Buonasera e benvenuto a Fulvio Scaglione. Grazie, buonasera a tutti. Allora, partiamo immediatamente a vedere i titoli e poi si torna in studio. Autonomia regionale, tre ore di vertice a Palazzo Chigi. Giovedì nuovo incontro, scuola e beni culturali in odi da sciogliere. Emergenza, immigrazione, in corso al Viminale il Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza presieduto da Salvini. Il vicepremier vince l'ennesimo scontro. La titolare della Difesa 30 cede e annuncia pattugliamenti della Marina e lui commenta navi militari contro gli scafisti meglio tardi che mai. La tensione resta altissima e si spacca anche il PD. Chiesa la confisca della nave Alex dell'ONG Mediterranea che sabato ha attraccato a Lampedusa nonostante il blocco navale. Messa del Papa per i migranti per Dio nessuno è straniero. Ecco, Fulvio, l'abbiamo visto adesso dall'apertura dei telegiornali. Adesso i siti cominciano a titolare accordi con Libia e Tunisia sulle partenze. Questa vicenda è intricatissima degli ultimi giorni sui migranti e soprattutto sugli sbarchi dell'ONG. Cosa ci dobbiamo aspettare? Secondo te nei prossimi giorni? Io credo che questa soluzione tra virgolette militare, cioè il fatto di muovere le navi militari, fosse piuttosto inevitabile nel momento in cui, da un lato, l'Europa ha manifestato una totale incapacità ad affrontare questo problema. E dall'altro, appunto, all'interno dell'Europa ogni paese ha deciso di fare per sé, sostanzialmente cercando di scaricare su qualcun altro l'onere di affrontare appunto questo problema. Certo, sentire parlare di navi militari che si muovono... È sempre un po' inquietante. È inquietante, fa impressione, va tenuto presente che non è che, per esempio, i nostri vicini francesi, quando si tratta di respingere i migranti sulle frontiere di montagna, usino i confetti e i mazzi di fiori, usano i poliziotti, usano le guardie di frontiera. Quello che io trovo particolarmente drammatico di tutto questo è questa clamorosa, clamorosissima resa dell'Europa, che non è una resa... È una resa di fronte al problema, ma è una resa anche di fronte a se stessa. Cioè l'Europa che non riesce a fare i conti con quello che ha di fronte, perché di fronte noi abbiamo l'Africa dove l'età media è 24 anni, abbiamo il Medio Oriente dove ci sono 410-15 milioni di persone di cui il 30% ha meno di 30 anni. Ecco, un'Europa che non riesce a fare i conti, anzi che si rifiuta programmaticamente di fare i conti con i propri vicini, è un'Europa che ha smarrito se stessa prima ancora di aver smarrito il senso del rapporto con gli altri. Io vi ricordo i contatti, perché come sempre, qui a VGT Gestate potete voi fare le domande e portarle qua dentro al nostro studio. Lo potete fare attraverso Facebook, Twitter, ma noi soprattutto vi consigliamo di farlo tramite WhatsApp. Vi ricordo il numero 335 69 33 132. E adesso insieme, Fulvio, andiamo a vedere ancora come titolano i telegiornali della sera con le notizie più lontane dall'apertura. Vediamo insieme. Marò, un braccio di ferro infinito e dopo ben sette anni una domanda ancora senza risposta. Dove saranno processati? L'Italia rivendica la giurisdizione e deciderà il Tribunale arbitrale dell'AIA. Oggi la prima udienza alla sentenza entro sei mesi. Il nostro ambasciatore denuncia per l'India. Sono già colpevoli. All'Eurogruppo il ministro dell'economia Tria conferma che l'Italia intende rispettare nel 2020 le regole europee, soprattutto per il debito. Tria ha spiegato che tra gli obiettivi del governo resta il riequilibrio dell'imposizione fiscale, poi indica una strada a ridurre la fiscalità diretta a favore delle imposte indirette. Esordio europeo della nuova Grecia, conservatrice di Mitsotakis. Ecco, Fulvio, un'altra notizia di questi giorni, anzi proprio di ieri, è questa del nuovo assestamento politico della Grecia. Adesso tra l'altro abbiamo anche una grafica pronta, la possiamo vedere insieme, per quanto riguarda le percentuali di voto. Comunque nuova democrazia diventa la principale forza del paese. Eccoli qua, ha avuto il 39,6% del Parlamento. E naturalmente Tsipras, che è stato invece il leader che abbiamo conosciuto in questi anni, quello che ha dovuto portare fuori la Grecia dalla situazione drammatica di crisi economica, e che in qualche modo è venuto incontro ai dettami dell'Europa, che gli diceva in qualche modo di ripristinare una situazione economica vivibile. Come lo dobbiamo interpretare? Che se si rispettano i dettami dell'Europa poi si perdono le elezioni? Anche, però io amplierei un po' lo sguardo. Io ho la sensazione che ci siano dei momenti storici che sono così complicati, che richiedono decisioni così gravi, che implicano così tante sofferenze o comunque paure nella gente, che coloro che sono protagonisti di questi momenti sono destinati a essere in qualche modo travolti. Tsipras è un caso, perché la Grecia ha vissuto non una crisi, ma una tragedia. Ma pensiamo per esempio a Gorbaciov, o pensiamo a Theresa May con la Brexit. Secondo me questi leader non avevano possibilità di uscire politicamente vivi, diciamo così, da difficoltà così enormi, perché tutti, io ho fatto tre nomi, non potremmo citarne altri, hanno dovuto prendere decisioni così pesanti nei confronti dei propri popoli e così nette, eccetera, eccetera, che era veramente difficile poi uscirne. Li ricorderemo tutti, nel senso che ricorderemo Gorbaciov, ricorderemo la May a suo modo, ricorderemo Tsipras, non di meno poi la gente vota e si ricorda i momenti brutti. Ma invece ti voglio anche portare su un'altra questione che è sui telegiornali di oggi, anche se non era in quella dei titoli, che è la vicenda in Iran. Appunto l'Iran che supera i limiti di uranio prestabilito, quindi c'è questa, insomma, sempre corsa verso il nucleare. Ecco, anche lì, che cosa ci dobbiamo aspettare? Prima di provare a dire quello che ci dobbiamo aspettare, io vorrei fare un passetto indietro, perché secondo me è decisivo per capire poi quello che è avvenuto e quello che probabilmente avverrà. Nel 2018 Donald Trump ha deciso di disdettare unilateralmente l'accordo che nel 2015 era stato siglato da Barack Obama, la Russia, l'Unione Europea, la Germania, la Francia, l'Inghilterra, eccetera, con l'Iran. Quando lo ha disdettato, ha detto noi lo disdettiamo perché l'Iran non lo rispetta, sta comunque cercando la bomba atomica. Di questo parere erano gli Stati Uniti, Israele e l'Arabia Saudita, e basta. Tutto il resto del mondo diceva no, non è vero, l'accordo è buono e funziona. Allora, è un po' difficile che tre paesi abbiano ragione e tutti gli altri torto, no? Non è così che di solito funzionano le cose. quindi è chiaro che questo questo gesto di Trump è stato vissuto dagli iraniani come un atto violento, come un'aggressione, come una mossa di neocolonialismo e di imperialismo. E questo ha determinato e determina le loro mosse successive, perché poi che cosa è successo? È arrivato l'embargo americano che poi ha trascinato con sé anche di fatto l'Europa e le aziende europee. questo embargo sta soffocando l'economia iraniana. Gli iraniani è ovvio che tra la prospettiva di essere soffocati senza fare niente e essere soffocati reagendo in qualche modo scelgono la seconda prospettiva. Chiarissimo, Fulvio. Io ti voglio far ascoltare un WhatsApp audio che mi dicono dall'ERG è stato arrivato. È una domanda ovviamente per te. L'ascoltiamo insieme. Buonasera, vorrei fare una domanda su Menro essendo iniziata l'udienza finale all'AIA. mi domandavo se nonostante i rapporti buoni con l'India la decisione della Corte possa rischiare di portare tensione fra due paesi. E anche qua torniamo un po' ai titoli di questa sera perché anche i telegiornali aprivano su questo. Beh, direi indubbiamente sì. La tensione peraltro c'è stata ed è una tensione che va avanti da anni perché onestamente per quanto grave sia stato l'episodio due paesi che riescono a dialogare in maniera non concitata in anni e anni avrebbero trovato il modo di risolverlo. La Corte dell'AIA in realtà secondo me per essere forse anche un po' cinico però sta decidendo l'innocenza o la colpevolezza di Due Marò perché se il giudizio verrà affidato all'India io credo che sia ragionevole aspettarsi un trattamento severo e facilmente una condanna di colpevolezza perché in tutti questi anni l'India ha sempre mantenuto questa posizione se la giurisdizione verrà invece assegnata all'Italia altrettanto ragionevolmente come dire siamo onesti con noi stessi possiamo aspettarci una soluzione favorevole ai Due Marò rimaniamo in India con la nostra foto del giorno Fulvio perché la vediamo insieme tra l'altro è uno scatto molto suggestivo ed è nel Kennai eccolo lì il Kennai è il sud dell'India c'è una crisi idrica veramente drammatica perché i monsoni non arrivano l'acqua non arriva e naturalmente a farne le spese sono sempre le classi più povere perché non possono permettersi di farsi arrivare le cisterne d'acqua pulita e di conseguenza bevono dai bacini acuitrinosi dalle pozze noi sappiamo che il 90% dell'acqua in India non è potabile e di conseguenza possono scegliere se morire di sete o morire invece di malattie gastrointestinali legate appunto ai batteri presenti nell'acqua la cosa che mi chiedo io e che credo si chiederà molto del pubblico stiamo parlando dello stesso paese che sta lanciando dozzine di satelliti nello spazio sta mettendo sottomarini negli oceani sta investendo moltissimo cercando di inseguire la Cina che ha la bomba atomica questa forbice secondo te si allargerà ancora di più? per quanto riguarda specificatamente l'India non saprei rispondere in maniera perentoria però quello che possiamo dire è che esiste questa forbice si sta divaricando a livello planetario a livello globale c'è una importante ONG irlandese che si chiama Oxfam che tutti gli anni verso fine anno produce uno studio su appunto la distribuzione della ricchezza nel mondo e l'ultimo studio ci ha detto che ci sono otto persone nel mondo che possiedono dispongono della stessa quantità di ricchezza della metà più povera del pianeta cioè otto persone nel mondo dispongono della stessa quantità di ricchezza di tre miliardi e mezzo di persone queste persone questi otto sono tutti molto noti sei sono americani uno è spagnolo uno è messicano ci sono i soliti Warren Buffett come si dice quello di Microsoft adesso naturalmente mi sfuggi comunque sono i soliti noti ecco però comunque otto e tre miliardi e mezzo da benissimo l'idea però adesso tiriamo un po' il fiato insieme andiamo sulle colline del Prosecco perché adesso la buona notizia di oggi eccolo qua viene dal fatto quotidiano Prosecco le colline di Conegliano e Valdobbiadene sono patrimonio UNESCO tra l'altro c'è stata insomma è stata una trattativa difficoltosa per far diventare questi vignetti patrimonio dell'UNESCO ma Fulvio cosa significa diventare patrimonio dell'UNESCO quale ritorno c'è effettivamente per questi territori ma io vengo da una terra che come le colline del Prosecco qualche anno fa è stata cioè le Langhe il Monferrato il Roero è stata dichiarata patrimonio è un vino squisito molto simile al Prosecco cioè diverso ma altrettanto buono sì sì francamente non saprei rispondere forse qualche esperto di economia e turismo locale potrebbe io ho la sensazione che questi riconoscimenti arrivino nel momento in cui c'è un successo conclamato il Prosecco è un successo conclamato dell'economia della cultura non solo alimentare italiana e ci sarà sicuramente un ritorno d'immagine sicuramente qualche ritorno d'immagine c'è tra l'altro noi italiani siamo detentori del più vasto patrimonio cioè del più vasto numero di riconoscimenti UNESCO esatto quindi siamo nazionali siamo un paese dei record in questo senso possiamo compiacerci allora grazie a Fulvio Scaglione per essere stato con noi questa sera grazie davvero e noi ci salutiamo con il nostro Dulcis che oggi ci porta tra le montagne perché era l'8 luglio ma del 1919 cent'anni fa esatti nasceva l'associazione italiana Alpini e allora noi con questo splendido montato ve li facciamo vedere oggi ma ve li facciamo vedere anche ieri e poi ci vediamo domani sempre qui a TGTG Estate buonasera a tutti